Per le elezioni comunali di giugno non ci sarà alcun automatismo di alleanze. Il sostegno all'Ociano D'Amico doveva essere un'esperienza tutta abruzzese contro la prepotenza di Roma, ma dopo il voto in Sardegna il campo abruzzo è diventato un campo largo contro la destra. Camillo D'Alessandro, presidente regionale d'Italia Viva, tira le somme del post elezione togliendosi più di un sassolino dalle scarpe nel commentare quel 2,81 per cento di preferenze che la lista riformisti e civici in campo nella coalizione di patto per l'Abruzzo a sostegno di Luciano D'Amico ha registrato le elezioni dello scorso 10 marzo senza riuscire a eleggere alcun consigliere. Per 3.000 voti la lista di riformisti e civici non ha eletto, cioè un dato però straordinariamente importante il 63 per cento di coloro che hanno votato la lista di riformisti e civici non ha espresso la preferenza, cioè ha votato sul simbolo. Ciò significa che siamo riusciti a costruire un voto d'opinione attraverso la casa dei riformisti che noi volevamo portare in consiglio regionale. 3.000 voti significa praticamente nulla su base regionale però si riparte da qui. Oggi per dire che riformisti e civici non è un progetto che muore e finisce come spesso accade a livello regionale, liste che nascono e che poi finiscono nel tempo della campagna elettorale, noi andremo avanti a partire dalle prossime imminenti elezioni comunali. La sconfitta dei 5 stelle è stato il prezzo pagato dall'intera coalizione, ma riformisti e civici sono consapevoli di aver dato tutto quello che si poteva dare per le regionali e insieme andranno avanti con la loro alleanza, senza però dare per scontate coalizioni in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Noi quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto per D'Amico, ci hanno chiesto tutta una serie di sacrifici, a partire dal simbolo, a partire dal fatto di fare una lista di questa casa che potesse fare una differenza, noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in nome di Luciano D'Amico. Dopodiché a un certo punto abbiamo pensato che fosse vincente il campo D'Amico e il campo D'Amico poteva essere l'alternativa alla politicizzazione romana. Ad un certo punto però della campagna elettorale dal campo D'Amico siamo passati al campo largo e i cittadini poi sono tornati ognuno a casa loro. Dispiace ovviamente il risultato dei 5 stelle. Lo studio dei flussi elettorali dimostrano che quasi il 4-5% che serviva a vincere l'elezione dell'elettorato e che vota 5 stelle alle politiche è votato a destra. Quindi per le comunali adesso cosa si farà? Se pensiamo a Pescara noi non ancora sappiamo se facciamo parte di una coalizione, non ancora sappiamo se Costantini è sostenuto dai 5 stelle. Io invito a mettere un punto e ad aprire un ragionamento complessivo. Si vota in tanti comuni, non solo a Pescara. Pescara ovviamente è oggi il centro della politica regionale. Noi abbiamo esercitato sempre responsabilità. Non si può chiedere a noi di essere sempre quelli che fanno i sacrifici per il tutto. Anche il tutto deve fare i sacrifici per gli altri. Nei prossimi 5 anni ci saranno un'opposizione dentro al palazzo e fuori dal palazzo, continua ad Alessandro, pronto a fare opposizione anche all'opposizione se sarà necessario.